Alle elezioni comunali vota Regina Caso ed Emanuele Ferrulli. I sacrifici per un lavoro, per la casa, per la famiglia, parlando di 30 cabini. Io vorrei invece istituire un servizio navetta, non solo per i bimbi, ma per gli anziani, per le persone che lavorano. Un tassi dell'Italia del Nord. Ci sono dei servizi navetta chiamati tassi comunemente. Si paga un tot all'anno, cioè un ticket all'anno e con 50 euro hai diritto a 30-35 chiamate con cui puoi effettuare servizi importanti. Andare al medico, farsi delle analisi, risonanza magnetica, eccetera. Vorrei anche portare la mensa scolastica nelle scuole primarie. Vorrei ampliare il servizio mensa agli anziani. Servizio mensa a domicilio, agli anziani che vivono soli, non hanno alcun riferimento. Vorrei dare a questa città la dignità che ha perso. La condizione delle scuole. Esternamente hanno bisogno di essere ristrutturate in modo, diciamo, almeno decente. Però il problema è l'interno e anche i servizi. C'è un servizio di assistenza ai bambini diversamente abili che è fatisciente. Molte volte dura due mesi, tre mesi, poi viene interrotto perché scade il contratto, poi stanno due mesi senza assistenza, poi si ricomincia. Però c'è gente che ha diritto a più ore. Ma purtroppo quello è il budget e quindi ci dovrebbe essere più attenzione ai diversamente abili. a tutte le loro problematiche che sono molteplici. Le case popolari purtroppo sono fatiscenti perché ci dovrebbe essere una maggiore interlocuzione fra l'ex IACP e il comune. Quindi manutenzione ordinaria, personale che giglia per le case popolari e si adopera per dare alla gente quello di cui ha bisogno, alla gente che abita in quelle case, quello di cui ha bisogno. Ci sono i balconi che devono essere ripristinati, ci sono gli androni, le scale, umido. C'è tutto da rifare. C'è tutto da rifare. Alle elezioni comunali del 31 maggio barra il simbolo dell'Udc e scrivi caso e ferrulli.